Intanto credo che sia ancora una volta l'occasione per dimostrare, per testimoniare, e ha fatto bene anche oggi Giorgia Meloni a ribadirlo, che o l'Europa è unita a affrontare le grandi sfide dall'aiuto all'Ucraina fino all'emergenza immigrazione o alla politica energetica o perde la sua partita. Macron è presidente della Francia e fa bene invitare chi vuole, ma contemporaneamente invitare Zelensky il giorno prima, la sera prima di un evento importante che è l'unità dell'Europa nei confronti del popolo ucraino con la visita di Zelensky non solo al Parlamento europeo ma poi l'incontro con i capi di Stato europei, credo che forse a proposito di opportunità sarebbe stato meglio non farlo. Quindi oggi è un altro passo importante per costruire un'Europa più forte dove l'Italia sia protagonista. Un passo avanti invece è la proroga delle concessioni.